buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo video quant'è che non dicevo questa questa frase ho deciso ragazzi miei cari amici di youtube di tornare a fare video su youtube so che qualcuno di voi sarà contento almeno me lo auguro e qualcuno di voi dirà oddio che palle ancora questa di a romperci le scarpe però vi dico la verità mi mancava questo canale mi mancavate voi e spero che state tutti bene io sto bene a parte qualche problemuccio ma quelli sono anche diciamo normali no nella vita fanno parte del gioco per il resto che vi racconto vi racconto che continuano battermi contro i giudizi il bullismo e non finirò mai di farlo perché purtroppo ce n'è tanto bisogno le barriere mentali che ce n'è tante e anche le barriere architettoniche che ho tralasciato un pochino ma che comunque sono sempre un problema poi vi racconto ho fatto una meravigliosa crociera la mia prima crociera è stata una bellissima esperienza e se vi va vi posso fare anche un video un po più dettagliato dove vi racconterò alcune vi darò alcune informazioni su come fare per fare una crociera con la carrozzina quindi sono contenta di essere tornata voi che mi raccontate che avete fatto spero che siete ancora tutti qui vabbè io ci sono e niente allora ci vediamo presto al prossimo video ciao